Musica Buonasera e bentrovato a un nuovo appuntamento con l'informazione di Unica TV, edizione di Monza. Oggi in apertura torniamo a parlare di Pedemontana perché la giunta regionale ha dato parere favorevole alla variante della tratta D. Ora si attende l'ok del comitato interministeriale, sono state chieste tre corsie a raccordo con la tratta C e tariffe calmierate. E poi Cronaca lo ha visto insieme ad alcuni complici, mentre scavalcava la recinzione del suo condominio si dirigeva verso un'auto. Grazie alla segnalazione di un residente è stato arrestato dai carabinieri, un topo d'appartamento. E oggi doppio flash mob a Monza davanti a Liceo Zucchi e davanti al San Gerardo per sostenere la sanità e l'istruzione pubblica. La CGL prepara la mobilitazione del 7 ottobre. Vediamo i servizi. Tratta D della Pedemontana, via libera dalla regione alla variante. Parere favorevole da parte della giunta lombarda alla delibera proposta dall'assessore Claudia Maria Terzi, infrastrutture e opere pubbliche. Di concerto con i colleghi Gianluca Comazzi, territorio e sistemi verdi, e Giorgio Maione, ambiente e clima. Sul progetto definitivo del segmento di autostrada che collegherà Tangenziale Est e A4 attraversando l'abrianza orientale. Regione Lombardia, sottolinea Terzi, ha espresso il proprio parere favorevole ritenendo l'opera e la sua applicazione progettuale, in linea con l'obiettivo strategico del Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile, che mira a potenziare e riqualificare la rete viaria e ferroviaria per arrivare a una Lombardia sempre più accessibile e connessa. La delibera regionale sarà ora trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai fini dell'approvazione del progetto da parte del CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Il tracciato della variante della tratta D della Pedemontana interessa la provincia di Monza e Brianza con i comuni di Agrate e Brianza, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Caponago, Carnate, Cavenago, Ornago, Surbiate e Vimercate, oltre alla città metropolitana di Milano, nel territorio di Cambiago, nella fase progettuale al fine di evitare eventuali future problematiche di congestione correlate alla capacità stradale. Regione chiede di valutare la possibilità di mantenere la sezione stradale a tre corsie per senso di marcia, anche in corrispondenza del tratto di raccordo tra le tratte C e D. Regione chiede inoltre di prevedere un adeguato importo a titolo compensativo a favore della provincia di Monza e dell'Abrianza per disciplinare in convenzione con Pedemontana la realizzazione degli interventi sulla rete stradale provinciale afferente allo svincolo di Vimercate e Bellusco. Per quanto riguarda le tariffe che verranno applicate all'utenza, da parte di Regione Lombardia c'è la raccomandazione di valutare l'adozione di specifiche modulazioni per aumentare l'attrattività della nuova infrastruttura a pedaggio. Mi ha visti scavalcare la recinzione del proprio condominio e dirigersi verso un'auto, così ha chiamato i carabinieri, denunciando il fatto e descrivendo la vettura sulla quale i fuggiaschi si erano allontanati. Grazie alla segnalazione di un residente in viaggiotto a Burago, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Vimercate sono così riusciti ad arrestare un topo di appartamento. I militari, una volta giunti nel paese Brianzolo, hanno individuato l'auto sospetta in via Dante. All'interno c'era un 28enne di nazionalità cilena sorpreso a bordo con diversi attrezzi utilizzati per riuscire ad introdursi nelle case, oltre a gioielli e articoli di bigiotteria. Sono bastate poche verifiche per scoprire che quanto rinvenuto all'interno dell'auto erano infatti il bottino di due furti prodottati a termine poco prima, uno appunto nel condominio di viaggiotto a Burago, nell'appartamento di un vicino dell'uomo che ha allestato i carabinieri e l'altro in una casa di via Garibaldi a Concorezzo. Il responsabile è stato riconosciuto non solo da alcuni testimoni, ma anche grazie ai filmati delle telecamere a circuito chiuso come uno dei tre ladri che hanno portato a termine i colpi. Alla luce di questi elementi il cileno è stato arrestato e processato per direttissima dal Tribunale di Monza. Il giudice gli ha inflitto la misura del divieto di dimora in Lombardia. Negli altri due ladri che erano con lui, nessuna notizia. E torniamo in studio, ancora cronaca. Incendio nella notte in una palazzina di via Foscolo. In fiamme la veranda del piano è rialzato di un condominio di quattro piani. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Alcune famiglie sono state evacuate a causa del denso fumo nero scaturito dal fuoco. E si intensificano le attività di presidio del territorio da parte della Polizia Locale di Cesano Maderno, con il servizio di pattugliamento a piedi operato dal personale delle vie cittadine. Sabato scorso gli agenti sono stati aggrediti da un cesanese di circa 40 anni, già noto alle forze dell'ordine. Gli agenti lo hanno immobilizzato e poi arrestato per resistenza e lesioni aggravate. Due operatori hanno riportato una prognosi di cinque giorni. Proseguiamo ora con i servizi. Un doppio flash mob della CGL questa mattina a Monza, davanti al liceo Zucchi alle 7.45 e all'ospedale San Gerardo alle 9. Flat tax ed evasione smantellano sanità e istruzione. Questo è lo slogan scritto sullo striscione che i militanti del sindacato e i rappresentanti delle associazioni che parteciperanno alla manifestazione nazionale del 7 ottobre hanno esposto. L'iniziativa è stata promossa, oltre che dal sindacato, da Cliampi, Arci, Hauser, Brianza oltre l'Arcobaleno, Cittadinanza Attiva, Diritti Insieme, Emergency, Feder Consumatori, Legambiente, Libera, Alisei, Sunia, UISP e WWF. Durante la manifestazione sono stati distribuiti i volantini in cui viene spiegato il motivo della mobilitazione. Questa mattina siamo davanti al liceo Zucchi e all'ospedale San Gerardo di Monza per manifestare insieme ad altre associazioni. Ha dichiarato al megafono in piazza Trento e Trieste, poi in via Pergolesi, Walter Palvarini, segretario generale CGL Monza-Brianza. A chi fa finta di non saperlo ricordiamo a cosa servono le imposte, a sostenere le persone, a costruire il futuro, a fare giustizia sociale. Chiediamo che venga applicata la Costituzione, che è la nostra via maestra. Per questo il 7 ottobre manifesteremo insieme a Roma contro la precarietà per il lavoro, per lo Stato sociale, per la pace e per la piena applicazione della Costituzione. Come la scorsa stagione, la trasferta al Mapei Stadium regala al Monza la gioia dei tre punti, conquistati anche stavolta in una partita di lotta e sacrificio. Dopo tre pareggi di fila, è la prima rete in bianco-rosso di Lorenzo Colombo a regalare ai Brianzoli una vittoria pesante in termini di classifica, ma soprattutto sul piano morale, perché dopo un avvio di stagione con qualche apprensione, la squadra di Palladino sembra aver ripreso a ingranare, trovandosi ora in una situazione di relativa tranquillità con 9 punti, a più 6 dalla zona di retrocessione e con la parte alta della classifica ora decisamente più vicina. Un successo tutt'altro che scontato, quello contro un sassuolo reduce dalle vittorie contro Juventus e Inter, stavolta però la squadra di Dionisi ha sprecato di più e ha anche una grande prestazione di Di Gregorio, autore di almeno tre grandi interventi nel primo tempo, ha permesso a Monza di uscire con la porta inviolata da Reggio Emilia. Meglio i Brianzoli nella ripresa, dopo un paio di occasioni con Chiriacopulos e Colombo, e proprio quest'ultimo a sbloccare la partita al 66esimo, dopo una discesa sulla sinistra, l'attaccante Brianzolo sterza su Erli che batte consigli con un destro raso terra. Questa vittoria ci dà grande morale, grande slancio, grande autostima. Venivamo da un periodo bello di partite importanti, di prestazioni importanti, però con pochi punti raccolti. Oggi ci serviva una vittoria di spessore. Questa è una partita che a mio avviso è molto difficile, molto complicata, perché nel primo tempo la potevamo anche passare sotto, quindi vanno dati meriti anche al sassuolo, perché hanno avuto 3-4 palle golle, a volte si parla tanto degli attaccanti, ma oggi il nostro portierone ci ha tenuto in piedi, quindi grandi complimenti a Michele Di Gregorio che ha fatto delle parate strepitose. Poi nel secondo tempo, secondo me, abbiamo fatto grande prestazione, abbiamo avuto 4-5 palle golle, l'abbiamo sbloccata e l'abbiamo portata a casa. Spazio negli ultimi 15 minuti anche per il neoacquisto. Il Papu Gomez è entrato bene in partita con alcune giocate in velocità, dando i primi ottimi segnali di un giocatore desideroso ritornare a brillare in Serie A. Il Monza resiste fino alla fine e conquista così la seconda vittoria stagionale. I Brianzori torneranno in campo domenica contro la Salernitana allo U-Power Stadium. Dobbiamo continuare così perché domenica ci sarà una partita complicata contro la Salernitana e mi aspetto davvero una risposta importante. Sappiamo che è difficile, quindi dobbiamo giocare con questo spirito, quello del secondo tempo. E bentornati in studio, questa era la nostra ultima notizia, vi auguriamo un buon proseguimento sul nostro canale. Grazie a tutti.